Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove Oka Skyline Float X, una scarpa pensata per i cammini, una scarpa di cui adesso vediamo insieme pregi e difetti all'interno dell'ercensione completa. Iniziamo con la sua oggi da qualche caratteristica per queste Skyline Float X. Per quanto riguarda la suola troviamo una suola Vibram, modello XS Trek, intersuola in eva a doppia densità con un drop di 5 mm ed una tomaia in tessuto tecnico che in generale garantisce un peso di 420 grammi nella taglia 42 uomo. Adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito dalla suola di queste Skyline Float X. Come dicevo troviamo la suola Vibram, modello XS Trek, ovvero il modello pensato appositamente per chi va a fare trekking, modello anche abbastanza confortevole. Nel particolare questo modello presenta dei tacchetti che sono abbastanza bassi per darle un'ottima flessibilità, un'ottima fluidità anche quando si cammina su strada. Parlando di prestazioni, beh, per tutto quello che riguarda single track, strade bianche eccetera non ha nessun problema. Sulla roccia si difende abbastanza bene, anche su roccia bagnata si difende abbastanza bene, dove non tiene è il fango. Avendo una tassellatura così ridotta, anche così vicina eccetera, devo dire che sul fango fa abbastanza fatica, con questa scarpa si tenderà a scivolare parecchio. Però per tutto quello che riguarda il non fango, davvero ha un'ottima tenuta. Continuando e passando a parlare dell'intersuola, beh, qui troviamo un'intersuola, come vi dicevo, a doppia densità, con all'interno anche una piastra in pebax. La piastra in pebax ci aiuta a non sentire male alla pianta del piede quando camminiamo su delle rocce appuntite, perché va a isolare molto bene la nostra pianta del piede da quello che troviamo quando camminiamo. In sé poi un'intersuola abbastanza ammortizzante, perché comunque parliamo di un'intersuola che nella parte posteriore è alta addirittura più di 4 cm. Devo dire che è veramente ottima la sua ammortizzazione, sia poi, lo vediamo dopo per persone leggere, ma anche per persone particolarmente pesanti che hanno una corporatura, una stazza imponente. E davvero, soprattutto poi essendo anche a doppia densità, ci aiuta anche nel momento in cui andiamo a spingere, ridandoci un po' di ritorno d'energia, così da poter risparmiare un po' di energia anche quando camminiamo. Quindi un'intersuola davvero davvero buono. Continuando, passiamo a parlare della Tomai, iniziando dal puntale. Qui troviamo un puntale di media durezza. Per intenderci, se dovessimo prendere dentro qualche roccetta, non ci facciamo tanto male, ma se proprio tiriamo un calcio secco o una roccia, allora sì, il male lo sentiamo. In sé poi la Tomai, come dicevo in tessuto tecnico, è veramente molto traspirante. Una Tomai così traspirante non la trovo da un bel po' di tempo. Una Tomai che ci garantirà poi di poterla utilizzare anche in giornate estremamente calde. Una Tomai fatta in tessuto che comunque ha delle parti rinforzate per farla durare anche a lungo. Per quanto riguarda il tallone, questo è molto strutturato. Tende un po' di strutturarsi nella parte superiore verso il finire del collare del piede. Quindi comunque un classico tallone. C'è da dire però che questa scarpa, essendo alta 4 cm, non ve la consiglio assolutamente per farci nulla di tecnico. Con questa altezza, appena andrete a fare qualcosa di tecnico, in cui magari c'è davvero un po' di stabilità, eccetera, prenderete un sacco di storte. Va bene solamente per camminate molto molto semplici. In generale poi, per quanto riguarda la parte di imbottitura, fatta bene, molto imbottita, non abbiamo nessun problema da questo punto di vista. Infine, parlando di linguetta e lacci, una linguetta classicissima, ben imbottita, isola bene la pressione dei lacci, non si muove mentre camminiamo. Lacci che mi sono piaciuti, anche se penso che sarebbe stato buono magari aggiungere un passalaccio in più per riuscire a serrarla meglio. Devo dire che, se comunque si utilizza su terreni molto semplici, non si hanno grossi problemi, però, secondo me, un passalaccio in più non sarebbe stato male. A livello di soletta, qui troviamo una classica soletta di oca. Volendo si può cambiare perché è sostituibile, ma io ci sono trovato bene, quindi andrei tranquillamente avanti a utilizzare quella in dotazione. Parlando invece di grandezza dell'avampiede, beh, devo dire che c'è un qualche millimetro in più rispetto a una grandezza standard. Non la definirei una vera e propria scarpa wide, però, comunque, è pensata che quando andiamo a camminare, se il piede tende a ingrossarsi, ha spazio per ingrossarsi. Quindi, sicuramente di questa scarpa, io vi sconsiglierei di prendere un mezzo numero, un numero in più, a patto che davvero non abbiate il piede, è una pianta del piede estremamente grossa. Dunque, a chi consiglio queste oca Skyline Float X? Sicuramente può andar bene un po' per chiunque. Dalla persona più leggera alla persona più pesante, senza alcun problema, dalla persona più esperta al principiante. Davvero può andar bene per tutti. La grande discriminante è dove utilizzarla. Come vi dicevo, solo su terreno veramente semplice. Strade bianche, anche asfalto, single track, ma quando iniziate a trovare roccette, qualcosa di tecnico, non è la scarpa adatta. Come vi dicevo, la scarpa adatta è per farci un cammino. Vi viene in mente, magari, una via francigena, un cammino di Santiago, cammini così, dove magari ad estate abbiamo anche un'alta, alta temperatura, allora queste Skyline Float X, davvero, ci possono tornare estremamente utili per avere un piede anche sempre fresco. Arriviamo dunque alle conclusioni per queste Skyline Float X. Iniziando dal prezzo. Online si trova sui 150-160 euro. Secondo me il prezzo è ragionevole per il tipo di scarpa che si va ad acquistare. È una scarpa che comunque strizza molto l'occhio anche per quello che è la sostenibilità ambientale, perché è realizzata con materiali riciclati. In gran parte la scarpa per sé è poi riciclata, quindi davvero occa da questo punto di vista ha strizzato molto l'occhio alla sostenibilità. E' bene che sia anche così. Per quanto riguarda poi le prestazioni, come abbiamo visto, perfetta per dei cammini, secondo me il prezzo ci sta. È congruo a quello che andremmo ad acquistare. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esotivo anche per questa recensione di Incazzo della Guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!